Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione del Tg di CronTV, servizio di assistenza dell'Unione disabili, Forza Italia denuncia gravi irregolarità. Le 11 escluse sono ora sulle barricate e non escludono anche ricorsi al TAR per denunciare l'accaduto che al di là di ogni valutazione ricadrà inevitabilmente sui ragazzini con fragilità anche gravi e sulle loro famiglie, costrette a restringere la scelta o peggio a dover dire addio agli operatori che magari da tempo seguivano i loro figli. La questione è poi diventata politica, a prendere la palla al balzo è stata Forza Italia, il coordinatore cittadino Carlo Alberto Guidotti e il capogruppo in consiglio comunale Ferruccio Giovetti hanno convocato questa mattina una conferenza stampa dove adombrano precisi sospetti. Sappiamo che di queste 15 cooperative soltanto 4 ora avranno l'ok e l'avvallo per poter continuare a lavorare e non le altre 11. Sarebbe interessante vedere ma come diceva Guidotti, questo lo lasciamo voi molto volentieri, quali sono queste cooperative che sono rientrate all'interno del novro, ristrettissimo, piccolissimo, di 4 cooperative che potranno continuare a lavorare con il Comune. è che il Comune ha trovato due elementi per poter continuare a lavorare con queste cooperative, il primo che già avessero lavorato in passato, e beh questo ci sta, vuol dire c'è tutto un background di lavoro, di capacità già ogliate, già viste, già valutate, già validate eccetera, e poi un limite del 13% e mi spiego, cioè il 13% soltanto con le cooperative che avessero raggiunto in passato un'assistenza al 13% dei bambini disabili di cui abbiamo parlato in questa occasione avrebbe potuto continuare a lavorare. Allora a me viene da dire ma perché il 13% non il 12% e il 14% o più ampiamente facendo numeri pieni il 10% o il 20%. Allora se voi foste nella cooperativa che è rimasta al 12% e quindi rimasta fuori, non pensereste un domani eventualmente di voler fare un accesso agli atti e eventualmente interrogare e interessare il Tribunale Amministrativo Regionale per capire se questo numero viene fuori da un calcolo assolutamente di legge oppure è stato fatto un pochettino così? Perché nel caso fosse stato fatto un pochettino così, io non voglio addombrare ad avanzare nessun sospetto in questo momento però avendo mai 56 anni qualche riflessione posso permettermi di farla anch'io. Un'intera zona della città ne insegna della multireligiosità a 5 le confessioni religiose che convivono pacificamente in un solo quartiere di Cremona. Vediamo. Cattolici, ortodossi, islamici, battisti e cristiani evangelici. Cinque credi differenti che convivono gli uni accanto agli altri condividendo una manciata di chilometri quadrati. Capita a Cremona a cavallo tra i quartieri di Sant'Ambrogio e Borgo Loreto un quadrilatero multireligioso che si è venuto a creare in pochi anni. L'ultimo in ordine di tempo di aver scelto questa zona per collocare il proprio luogo di preghiera è stata la Chiesa Cristiana Evangelica che si trasferirà a breve nei locali lasciati liberi da una società di corrieri in via Malagavazzo. I responsabili religiosi nei giorni scorsi hanno inviato ai residenti una lettera in cui hanno presentato la loro comunità e le modalità in cui si svolgeranno le funzioni domenicali rassicurando gli abitanti sulla discrezione della loro presenza e l'intenzione di limitare al più possibile disagi soprattutto per traffico e parcheggi. A pochi metri di distanza in viaglio dietro un grande cancello hanno invece trovato spazio i battisti che frequentano la loro chiesa sempre di domenica. Poco più in là, superato il cimitero civico, ecco la moschia di via Cipressi, qui dal 2013 dopo il trasferimento non facile da via Bibaculo ai locali di quella che era la discoteca Nechente, un luogo frequentato soprattutto al venerdì. Proseguendo e imboccando via Litta, ecco la chiesa degli ortodossi acquistata e ristrutturata interamente dalla comunità romena che svolge qui le sue funzioni dal 2016. Più parcheggi, più spazio, costi più ragionevoli degli stabili e più tranquillità sono le ragioni che hanno spinto i fedeli a scegliere questa zona come casa spirituale all'ombra delle parrocchie di Sant'Ambrogio e della Beata Vergine Lauretana di Borgo Loreto che delimitano il quartiere delle cinque religioni. Cimitero monumentale lasciato in preda a degrado in Curia e i cittadini lanciano l'appello al comune. Servizio. In Curia cremonese, nuovo atto, sembrerebbero le immagini di una periferia abbandonata, si riferiscono invece ad un'opera architettonica del ventennio fascista, tra le più belle. Parliamo del cavalcavia del cimitero di Cremona, tripudio di gradini rotti, erbacce e muri imbrattati. Il degrado è sotto gli occhi di tutti coloro che frequentano il cimitero e soprattutto degli anziani, per cui con l'asfalto sconnesso, i gradini crepati e spezzati in più punti, le erbacce che rendono scivolosa la discesa nei giorni di pioggia sta diventando anche un problema. Senza contare che anche tutte quelle scritte orrende sui muri di fronte al cimitero sono davvero indecorose, soprattutto considerando che oltre ad essere un luogo sacro, il cimitero cremonese è anche monumentale e quindi di per sé luogo di interesse artistico. Ecco allora l'ennesimo appello al comune, intervenire presto per restituire alla città un pezzo importante della sua storia. Siamo alle notizie dall'Italia, una sigaretta negata ha scatenato la lite culminata con la coltellata che ha ucciso un cittadino portoghese ieri sera in un bed and breakfast di Verona nel quartiere di Borgo Roma. Fonti della questura Scaligero hanno precisato che rispetto a quanto riferito in un primo momento, per ora non si è ancora proceduto formalmente con un arresto o un fermo. In questura al momento si sta sentendo un 37enne con azionale della vittima fortemente sospettato dell'omicidio. Secondo quanto si è preso è stato sferrato un solo fendente che ha reciso l'arteria femorale della vittima che non è ancora stata identificata, causandone la morte per distanguamento. Si erano ucciso che il presunto autore dell'omicidio si trovavano a Verona per lavorare come operai ed erano alloggiati assieme ad altri cittadini portoghesi nel bed and breakfast nella zona sud della città. Serie di disagi per migliaia di frontalieri che lavorano in alberghi, ristoranti e cantieri ed ili in Svizzera a causa di una frana di grosse proporzioni caduta nella notte, a causa dei forti temporali e una più piccola stamattina in Val Bondasca nel territorio di Bregaglia, Svizzera, a pochissimi chilometri dal confine con l'italiana Villa di Chiavenna. La strada che porta al confine è ora interrotta il piccolo paese di Bondo, Svizzera, in gran parte è stato evacuato. Siamo alle notizie del mondo, per la Russia l'idea che i programmi missilistici nucleari nordcoreani possano essere bloccati dalla sola pressione su Pyongyang è un errore e non ha un futuro. I problemi della regione devono essere affrontati attraverso un dialogo che coinvolga tutte le parti senza precondizioni. Così Vladimir Putin in un articolo che sarà pubblicato nei principali media nei paesi membri del BRICS in occasione del vertice in Cina. Putin avverte che la situazione in Nord Corea si è aggravata ed è sull'orlo di un conflitto di vasta scala. Il bilancio dell'uragano Arve negli Stati Uniti è salito da almeno 47 morti, lo riferisce il sito della CNN, intanto dopo Arve, un nuovo uragano si è formato sull'Atlantico orientale, si chiama Irma, è stato classificato per il momento categoria 2 su 5 e porta con se venti che soffrono ad una potenza di 160 km orari. Secondo gli esperti non c'è pericolo immediato per il continente. Siamo allo sport, l'Unione Sportiva Cremonese comunica l'acquisizione delle prestazioni sportive di Edoardo Maria Davino. Davino è nato a Roma il 17 gennaio del 97 e portiere arriva in grigio rosso a parametro zero. Cresciuto nelle giovanili della Lazio, è indossato la maglia di Frosinone, Savoia, Vezzano e Materica. Nell'ultima stagione è stato in forza l'Alto Vicentino, intanto domenica per la Cremonese primo appuntamento in Serie B davanti al suo pubblico e al rinnovato Stadio Zini. Edizione record per il triathlon sprint Città di Cremona firmato Stradivari Team. La manifestazione è giunta alla 19esima edizione, in programma domenica 3 settembre a partire dalle 10. Presso il centro sportivo Stradivari, al via 460 atleti. Nella start list spica la presenza della campionessa di specialità Anna Maria Mazzetti, olimpionica Londra e Rio. Sfida aperta in campo maschile. Questa per noi era l'ultima notizia, il TG torna come sempre lunedì alle 20. Io invece per il weekend vi lascio alle good news. A tutti voi un buon fine settimana, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.